Buongiorno, buon pomeriggio, sono Silvia Letto, una professoressa di lettere. In questo video vado a raccontarvi la rivoluzione inglese, quello che succede quindi in Inghilterra nel 1600. A inizio secolo 1603 la regina Elisabetta I muore, non ha eredi, perché non si è mai sposata. Di conseguenza il trono, la corona, passa al nipote Giacomo I, figlio di Maria Stuart, quella Maria Stuart che, regina di Scozia, viene in qualche modo allontanata, la stessa scappa dalla Scozia perché aveva delle questioni politiche, degli intrallazzi politici con la Francia e arriva in Inghilterra. In Inghilterra viene subito imprigionata con grande libertà da parte di Elisabetta I, che alla fine però la condannerà a morte perché Maria Stuart in realtà continua a tramare contro la corona. Insomma, sta di fatto che Giacomo I a questo punto diventa sia re di Scozia, in quanto aveva avuto la corona dalla madre, ma anche re d'Inghilterra. Quindi queste due corone si sono unite, si sta formando in qualche modo l'inizio della Gran Bretagna. Quando Giacomo I prende il potere attua un programma assolutistico, tanto che aumentano in qualche modo gli scontri fra il re e il Parlamento. Il Parlamento, da ricordare, è sempre formato da due Camere. In una, la Camera dei Lord, abbiamo tutta la classe aristocratica, anche quella della Gentry, quella di più antico lignaggio. Dall'altra parte c'è la Camera dei Comuni, che viene eletta su base censitaria e di conseguenza c'è anche parte della borghesia. Da un punto di vista religioso rafforza il potere della chiesa anglicana, anche se non interviene durante la guerra dei Trent'anni, che era scoppiata in Europa dal 1618 al 1648 fra gli stati cattolici e quelli invece luterani protestanti. E cerca anche però di mantenere dei buoni rapporti con i cattolici, in quanto da sottolineare questa informazione ci servirà anche dopo, la Scozia è cattolica, quindi cerca un po' di mediare fra queste due forze, fra questi due poli religiosi. Alla sua morte il trono passa a Carlo I. Carlo I procede anche lui con un sistema di politica, di accentramento del potere nelle proprie mani, va a limitare le libertà locali e mette tutti i requisiti, le basi per un vero e proprio potere assoluto. Tanto che, adesso andremo a vedere le difficoltà che ci sono con il Parlamento, e lui stesso governerà con il Consiglio della Corona, quindi un gruppo molto ristretto di persone che saranno a lui vicine. A un certo punto ci sono queste forti resistenze fra il Re e il Parlamento. Perché? Perché da un lato il Re vuole portare avanti una politica di assolutismo, d'altra parte invece il Parlamento sta chiedendo dei diritti, chiede al Re di firmare la Petition of Rights, cioè una richiesta appunto di diritti, che ha come compito questo documento di riaffermare la libertà che già in realtà c'erano nel Regno, perché già nel 1215 c'era, era stata entrata in vigore, era stata approvata questa magna carta che Messanciva diceva quali potevano essere i diritti del Parlamento. Con l'attuale Petition of Rights il Parlamento chiede di avere maggiore voce in capitolo e di conseguenza va a limitare un pochino il potere del Re, che non può più sciogliere il Parlamento in maniera arbitraria, non può neanche aumentare le tasse senza un accordo del Parlamento, di conseguenza anche la guerra non può essere decisa esclusivamente dal Re, ma deve essere sempre consultato il Parlamento. Carlo I però decide di non firmare questo documento, la Petition of Rights, perché ha bisogno del Parlamento e vuole che il Parlamento gli dia la possibilità al Via Libera di introdurre una nuova tassa, perché vorrebbe finanziare una spedizione contro gli Ugonotti. Ma, quindi qua c'è lo scambio, il Re vuole questo e il Parlamento sarebbe anche disposto a concedere questa nuova tassa a patto che il Re firmasse questo documento, non lo fa di conseguenza e il Parlamento in qualche modo non viene preso in considerazione e il Re introduce di sua spontanea volontà, anzi estende di sua spontanea volontà questa legge senza il consenso del Parlamento, la legge in questione è la ship money, cioè una legge che era già in vigore ed era una tassa che le città portuali dovevano pagare direttamente al Re. Il Re la introduce a tutte le città e questo genera grandi resistenze, grandi proteste da parte delle città ma anche del Parlamento, che si vede in qualche modo scavalcato, il Re non considera quanto è stato detto e quindi continua in realtà questo scontro fra i due. Ulteriormente la situazione degenera nel momento in cui Carlo I organizza una missione armata contro la Scozia perché la vuole convertire alla religione anglicana e vuole ridurre il potere di questo territorio e anche questo fatto avviene senza il consenso del Parlamento che chiede costantemente al Re di firmare questa petition of rights. Qua abbiamo una doppia convocazione, prima bene il Parlamento viene convocato dal Re ma siccome non c'è un accordo, il Parlamento vuole sempre che il Re firmi la petition of rights e il Re vuole avere in qualche modo l'avvallo del Parlamento per questa spedizione militare, non si trova un accordo quindi il Parlamento viene sciolto in 448, infatti si parla di Parlamento corto. Siccome il Re fondamentalmente ha bisogno di ulteriore consenso viene riconvocato il Parlamento e questa volta in realtà rimane convocato per 13 anni dal 1640 al 1653 dimostra sempre comunque la difficoltà di incomprensione di punti e obiettivi diversi fra il Parlamento e il sovrano. Il Parlamento chiede l'abolizione della tasse della ship money e vota e presenta un documento che si chiama la grande rimostranza. In questo documento il Parlamento ha indicato tutte le condanne al Re perché ha violato diverse volte, il Parlamento non ha rispettato quindi i diritti parlamentari e condanna ufficialmente la politica assolutista del Re. A questo punto in realtà la situazione è davvero peggiora perché ci sono anni di una vera e propria guerra civile, più o meno gli anni in cui questo Parlamento rimane aperto, 1640-1650. Semplificando molto, da una parte avremo il Re Carlo I e le persone a lui legate, dall'altra parte avremo il Parlamento che si è organizzato e ha messo alla guida del proprio esercito questo puritano che si chiama Oliver Cromwell che ha dato vita anche a un nuovo esercito che si chiama New Model Army. Importantissimo è il fatto che Cromwell sia un puritano perché secondo poi anche la religione a capo delle comunità c'era un pastore e questo pastore veniva scelto dai fedeli, veniva in qualche modo votato. Allo stesso modo Cromwell quando dà vita a questo nuovo esercito esercito fa sì che gli ufficiali siano scelti dai soldati affinché i soldati siano più motivati in realtà a combattere perché uno combattono per dei loro diritti secondo lo fanno per delle persone, i loro ufficiali che hanno scelto loro stessi quindi questo è importantissimo ed è uno dei motivi per cui alla fine Cromwell con il suo esercito potrà vincere. Importantissima questa faccenda dei puritani da ricordare quando poi si andrà a studiare le colonie americane un gran numero di puritani lascerà l'Europa per andare sulle coste del Nuovo Mondo e insomma si ricorda sempre la nave con la Mayflower con i padri pellegrini che sono proprio dei puritani motivo per cui poi andando a studiarle o con maggior approfondimento nel programma di quarta si vedrà per quale motivo poi ecco gli Stati Uniti diventeranno una repubblica perché c'è questo è in loro molto forte questa idea di votare di scegliere le persone che devono rappresentarle insomma sta di fatto che c'è questo scontro molto forte il re fuggirà motivo per cui poi nel 1649 verrà condannato per aver tradito il proprio paese verrà condannato a morte non essendoci più re c'è in qualche modo un vuoto di potere che viene colmato da Cromwell che quindi ha il potere politico diciamo e quello anche legato all'esercito e dà vita a quello che si chiama il Commonwealth e questi sono gli anni 1649-1658 in cui abbiamo questa repubblica e sono gli unici anni in cui la Gran Bretagna non sarà una monarchia ma sarà una repubblica inizialmente Cromwell lavora bene cercando un equilibrio fra le diverse parti quindi anche in maniera molto ponderata ma via via che il tempo passa diventerà sempre più autoritario di conseguenza verrà destituito e il trono verrà dato a Carlo II e Carlo II andrà a firmare la Petition of Rights si trova scritta anche il Bill of Rights insomma va a firmare questo documento che va a sancire tutta una serie di diritti del Parlamento Carlo II quindi approva questo documento e cerca di governare in maniera molto cauta cercando sempre quindi di rispettare i diritti del Parlamento alla sua morte il governo passerà a Giacomo II che è suo fratello Giacomo II è cattolico e viene considerato un assolutista quindi parte Giamane in qualche modo il suo governo e affida la burocrazia a una minoranza cattolica andando a togliere il potere agli anglicani quindi la situazione si fa sempre più tesa fino a quando nascerà un suo figlio e quindi si teme per il futuro dell'Inghilterra e di conseguenza insomma il Parlamento si attiverà affinché si prendano contatti con Guglielmo d'Orange che era il marito di Maria II Astuara quindi aveva un legame in realtà con il territorio inglese e dall'Olanda e dalle Provincie Unite Guglielmo d'Orange arriva nel 1688 arriva in Inghilterra e Giacomo II scappa la fuga del re pone fine quindi al suo governo si dà inizio al nuovo governo di Guglielmo d'Orange e questa prende il nome anche di Glorious Revolution perché questa volta non è stato necessario scatenare nessuna guerra non c'è stato spargimento di sangue il re se ne va temendo ovviamente per la propria vita e il Parlamento sceglie il proprio sovrano che l'anno successivo 1689 firma il Bill of Rights e anche l'Abeas Corpus con l'Abeas Corpus un altro documento un'altra legge molto importante che dice che i cittadini che sono stati arrestati dalle guardie reali non potevano essere detenuti in maniera così discriminatoria ma entro tre giorni dovevano essere portati davanti dei magistrati che potessero quindi ufficializzare l'arresto perché era stato commesso un reato oppure liberare i cittadini sono tutti degli atti molto importanti quindi l'Inghilterra si sta muovendo nella direzione dei diritti ha fatto questa grande rivoluzione che rimarrà però all'interno di quest'isola non riuscirà a arrivare nel continente europeo in cui non si parla più di sudditi ma di cittadini e ci sarà una con Guglielmo d'Orange una monarchia costituzionale e poi diventerà parlamentare quindi ci sarà una costituzione un insieme di leggi che andranno a tutelare i cittadini e un Parlamento che avrà sempre più potere e non solo affiancherà ma governerà ufficialmente anche l'Inghilterra diverso è quindi quello che succede in Inghilterra rispetto a quello che abbiamo visto in Francia soprattutto dove c'è sempre più forte un assolutismo il potere nelle mani del re in Inghilterra invece si inizia a parlare di diritti quindi è il primo stato direi europeo dove questo avviene però rimane appunto all'interno delle sue coste non arriva fino all'Europa continentale spero che questo video vi sia stato utile vi auguro buono studio